Il mio diario E' da giorni che non mangio Meglio ordinare qualcosa Devo nutrirmi Signore Benedici questo pasto Fa che questa carne Non sia quella dei topi Che numerosi ho visto scorazzare qui fuori Possa questo vino essere il migliore del piscio di cui ha l'odore E che spezzando questo pane Io non ci trovi dentro una blatta Perché se così fosse Assassinerò la locandiera Amen Le disgrazie non vengono mai sole Ma cosa ti sei? Un battito? Che intenzioni hai? Una soltanto Imprimere sugli infedeli Il marchio della chiesa Il marchio della chiesa Che siano le vittime della peste Gettate qui per non contaminare il villaggio Chi va là? Sono un umile servo di Dio Vi venisse un accidenti E diavolo ci fate Qui? Dite bene E' giusto per il diavolo Che sono a Calcares Che è una soluzione Che è un umile servo di Dio